E' un video? Ah, è un video! Ciao, Renata! Aiuto, c'è l'herbe! Stress! Ma che notte stress? Cosa stai nel giro di funcire, no? Eh sì! Cosa stai nel giro di funcire? Non c'era la cultura delle macette! Allora, non c'era nel giro di funcire. Allora, di lappertura. Dai, ciò, c'era la cultura. E dai, dai, come è andata Ancona? Bene, ho fatto una fotocontata, però non si sa. E dai, 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 dai. E dai, 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 dai. Io voglio prendere una maglietta, niente? Ecco la lei. Vai, dai, dai. A manco, a mosse. di diputati, premitorio per lui, una delle quali per il capo, campione italiano neopro 2015 dei pezzi medio-massimi, al suo angolo Paolo Sperandio con Marco Trabascio, per la uniti di production, da Paolo Sperandio con Italia, Adriano Sperandio! 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 Perché stiamo all'interno il cimino? Vabbè! Se lui ci sono guardati, questi ragazzi, siamo vanti! Sperandio! 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Adriano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.